Vanni Rinaldi, Art Manager, qui. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'evento che non vi dovete assolutamente perdere. Parliamo di Arte Padova, la fiera più longeva d'Italia. Dal 15 al 18 novembre Univocal Art Gallery vi aspetta nel padiglione 7, stand 74. Sarà la settima volta che io e Deir partecipiamo alla fiera Veneta. Abbiamo più di 40 collezionisti che hanno comprato nelle edizioni precedenti. Abbiamo veramente un pubblico forte in tutto il Veneto e quindi siamo strafelici di venire. Quest'anno oltre a lei ci saranno Jacopo Berlendis che viene da un grandissimo successo alla Look Art Fair e Fabrizio Dotta che abbiamo portato sia alla Look Art Fair sia alla Montichiari Art Fair. Porterà una nuovissima produzione. Lo stand di 30 metri quadrati sarà un spettacolo. Ogni anno è un piacere per me incontrare persone che ho visto nelle edizioni precedenti, sia che si tratta di collezionisti che hanno acquistato, sia di gente con cui semplicemente ci ho fatto qualche trattativa o anche artisti, curatori e altri operatori del mondo dell'arte. È una fiera molto molto competitiva da non sottonotare assolutamente. La sua vicinanza con il periodo natalizio per me la rende ancora più magica. Una proposta per voi. Suggeritemi in un commento quale deve essere l'argomento del prossimo video. Vi lascio tre possibilità. Prima possibilità, la mostra dove ho venduto di più in assoluto. Seconda possibilità, la fiera dove ho venduto di più in assoluto. Terza possibilità, come sta andando Singular. Io vi ricordo, se non siete iscritti, di iscrivervi assolutamente al canale. Riceverete tanti contenuti riguardanti il mondo dell'arte, mostre, fiere, aste, mercato dell'arte in generale, segreti del sistema. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete un mi piace, commentate, mi aiuterete a supportare questo lavoro. Grazie a tutti.